allora nell'ultimo video che ho fatto ho dimenticato una cosa importante che era quella di ringraziarvi per aver raggiunto e superato abbondantemente i mille iscritti al canale quindi colgo l'occasione di questo nuovo video per ringraziarvi tutti quanti e per continuare a invitarvi a iscrivervi al canale più siamo e ovviamente più il canale cresce più le discussioni saranno interessanti anche dopo con i vostri interventi riguardo a questo l'ultimo video abbiamo parlato del innanzitutto dell'aggiornamento delle copie cosa che ripeterò più avanti sperando appunto che le copie vadano meglio di quanto siano iniziate e abbiamo parlato soprattutto e fondamentalmente della legge quella lì che si sta discutendo sulla questione esotici che potrebbe mettere a repentaglio come sappiamo il nostro hobby riguardo a questo privato mi hanno contattato tante persone che ringrazio ma una in particolare mi ha colpito ciò che ha detto la sua situazione e quindi è giusto dare parola a questa persona sperando che il suo messaggio unito al mio e unito a quello degli altri possa arrivare in maniera più diretta quindi vi farò sentire ora ciò che c'ha da dire mattia un carissimo amico allevatore anche lui un grande appassionato e niente vi farò sentire quello che lui ha da dirci e ci sentiamo dopo ciao ciao a tutti piacere mi chiamo mattia ho 27 anni ringrazio davide che mi stanno la possibilità di fare questo video grazie per l'opportunità davide molto gentile allora e io chiaramente gli animali sono la mia grandissima passione come per chi è iscritto al canale magari già lo sa lo sa sicuramente che non perdo occasione per ripeterlo ho iniziato quando ero piccolo adesso non ricordo quanti anni però che mi ha trasmesso la passione è stata mia nonna è stata mia nonna quando la mattina primavera che andava a scuola giornata 9 ovviamente come sempre si è presentata la porta di casa mia con una cesta in mano in questa cesta c'era un cagnolino meticcio che ho chiamato charlie e da lì diciamo che è iniziata la mia passione anche perché poi siamo cresciuti insieme lui si è affezionato a me mi sono affezionato a lui e così avevo questo cagnolino lo stesso anno per santa lucia ovvero il 13 dicembre che nel quattro santa lucia mia nonna anche sempre lei diciamo anche mia nonna ha deciso di farmi portare da da santa lucia una coppia di gallinelle americane regalo e galline diciamo che all'inizio non ho avuto non ho dato tanta importanza a questo regalo non ho dato sono andato avanti a giocare con i miei giocattoli e fare mangiare i miei dolci per colazione che poi dovevo andare a scuola ma al pomeriggio mi preoccupai subito di come poter sistemare i miei nuovi animali non sapevo assolutamente nulla di cosa dovevo fare che gabbia dovevo mettere cosa dovevo fare ma era un trasportino capivo che quello non era il posto giusto però era un trasportino minuscolo in realtà era una gabbietta e fortunatamente quando io mi mi preoccupai di mettere a posto queste galline ci avevano già pensato i miei nonni avevano procurato una conigliera in legno e avevano già la mangià predisposta con la cesta il riposatore nel punto più alto della della conigliera il mangime e quindi da lì diciamo che ho iniziato ad appassionarmi ho iniziato l'estate dopo un mio amico mi allegrava una coppia di diamanti mandarini e da lì ho iniziato purtroppo non avevo non avevo social non avevo internet perché all'epoca quando ero piccolo non ero capace e se non ero non c'ero nemmeno però non potevo imparare non potevo avevo diciamo pochi pochi appoggi tranne i nonni e dopo così facendo ho iniziato ad andare alla mia uccelleria diciamo di fiducia non a caso adesso lì che lavoro e lì diciamo che il miratore di lavoro essendo esperto ho iniziato lì andare lì le prime volte ero piccolino e iniziavo a far domande poi lì ho visto le cucurite ho visto i canarini ho visto i coniglietti i porcelini d'india e da lì ragazzi non c'è stato più fine i canarini però mi sono sempre stati sconsigliati mi sono sempre perché sono delicati e se sposte la corrente d'aria rischiano di soffrire e addirittura di lasciarci anche le punture di zanzara sono molto delicati e fragili infatti se vengono punti da una zanzara vengono infettati e ci lasciano le penne poverini però ho trovato come una prima coppia una prima coppia che mi hanno portato in montagna e lì diciamo che mi sono dubati un po però ero le prime armi non tantissimo poi dopo ragazzi ho iniziato non c'è stato più fine cocorite coniglietti dopo ragazzi ho iniziato con apprendere imparare e acquistare sempre più animali ho iniziato a specializzare ho iniziato a fare i giusti recinti le giuste voglieve il giusto mangiare tutto non che prima non facessi però ho iniziato diciamo a imparare da solo a studiare a leggere a guardare anche i video su youtube anche perché quando magari scopri qualche canale nuovo o qualche nuovo profilo non esito a contattarli per chiedere magari qualche informazione qualche consiglio riguardo e da lì ne ho iniziato sono veramente soddisfatto dei risultati che sto ottenendo infatti anche con i canarini che all'inizio erano sconsigliati adesso riesco a far rinascere riesco e addirittura quest'anno mi sono iscritto alla poi a inizio anno e ha iniziato ad anellare i miei primi soggetti più le altre dita si allungano stanno tese se no è una grandissima soddisfazione veramente ragazzi anche perché adesso con questa legge che dovrebbe subentrare diciamo nei prossimi giorni non si sa come si andrà a finire in ogni caso voglio passare un messaggio che noi allevatori io vabbè non mi ritengo allevatori allevatore però chi alleva chi lo fa per passione non siamo non siamo cattive persone non condanniamo gli animali non la condanna noi diamo nuova vita agli animali riproducendoli facendoli star bene e tutto ciò quello che può essere il loro benessere non viene assolutamente trascurato e speriamo vada tutto bene io vorrei lanciare un'asta che animali esotici ma familiari e comunque aggiungo ancora una cosa gli animali sono la mia grandissima passione fin da quando ero molto piccolo e difenderò questa passione con le unghie con i denti perché nessuno dico nessuno me lo può portare via e penso che come me la pensino anche tutti gli altri penso che come penso che il mio pensiero ce l'abbiano anche tutti gli altri appassionati allevatori quindi combattiamo fino alla fine con le unghie con i denti e chiudo subito qua il discorso senza aggiungere null'altro a chi sta facendo tutto questo che lo fa senza senso senza senso proprio è insensato e nulla niente vi lascio vi lascio un video per mostrare un po le specie che avevo chiaramente sono non dico specializzato però ho paracchi canarini ho paracchi pappagalli e se vi faccio vedere qualche animale che che ho in famiglia e non vi faccio vedere tutte perché altrimenti il video verrebbe troppo lungo o anche altre mandarine se non sapesse cosa sono magari lascio un'immagine e nulla ci vediamo con gli animali che ho in famiglia iniziamo subito allora qua calossite quello il maschio quello è un puglio che appena quello è un puglio che appena stato svezzato infatti ancora in muso grigio qua dentro c'è la femmina che sta covando altre uova e due pulli già nati da qualche giorno lui è pippo pippo è una calossita levata a mano sempre a regalo di mia nonna ed è il pappagallo più vecchio che ho più anziano pippo era in casa che ha levato mano come vi stavo dicendo però poi è arrivato il gatto e non andava tanto d'accordo allora lascio qua in vogliera pippo 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 prima la vogliera è la più ospitata ecco c'erano anche dei grupponi alla calossite eccetera qui due tortoni diamantino uno a due la femmina ha fatto una covata con un uovo non era secondo coppia di cacarecchi femmina e maschio bucate per i sali minerali un nido questo è il vaso una calossita che è arrivata quando era ancora un pulo appena sversato gli mancano le piume della cura perché era una gabbina esterna della un po troppo piccola adesso l'ho messo qua in vogliera sta meglio poi abbiamo cenerino che è la prima calossita nata in famiglia è nata a settembre poi ho anche due calossite un'altra coppia quella con i colori particolari che dovrebbero essere i maschi e poi abbiamo ecco qua che non hanno ancora un nome questo è il mio scolattolino ecco qua il mio scolattolino ma quanto è rosso il mio scolattolino striato il mio scolattolino il mio scolattolino è attaccolto questo è l'orecchione si chiama? ecco qua la nostra mascotta che è il nostro ciliega? il nostro ciliega geppetto e il nostro ciliega si chiamano così perché sono due eccellenti poleniani e ogni volta che gli metto dentro qualche cesta in legno io la vedo che mi ha insediato io buono qua una voglia di coccolette sono cinque coppie dovrebbero essere e sul fondo ho delle cogliette cinesi ho anche delle tortore in colorazione particolare come per esempio quella bianca pezzata coppia di groppone palocchetto di burk la femmina in cova dovevano nascere domenica se tutto va bene coppie di carini maschio recessivo penso o dominante non ho ancora capito e femmina giallo mosaico in cova con quattro uova qui ho due luccherini maschi bellissimi adesso sono un po' eriquieti perché ci sono io che sto facendo il filmato altrimenti sono belli calmi ho scoperto grazie a David che sono due maschi suoltenutamente famigliari canarini giallobrinato elisa e corail pull che appena da poco sceso dal nido quindici giorni un'altra coppia di carini è pezzato e giallobrinato con due pulli sono nido ve li faccio vedere meglio perché la giampa diventa grande altra coppia di canarini bronzi la femmina è nata da me sta covando nata stagione covid 2021 e il maschio bronzo che ora non vedo eccolo è venuto a farsi vedere eccolo lì coppia di roster il maschio si intravede con il zuffo eccolo lì la femmina è in cova nel nido coppia di gialli giallo intenso e giallo brinato che sta covando quattro uova tre feconde ho fatto la speratura ve le faccio vedere tutte feconde no davvero coppia è nata da me stagione 2021 chiaramente non sono fratelli poi un'altra coppia arancione e rosso brinato che adesso non vedo ecco la uova tre uova tutte non fecondate coppia giallo mosaico penso la femmina abbia iniziato a deporle coppia coppia di inseparabili come avete visto con due uova spettacolari infine abbiamo una coppia di rossi rossi intenso e rossi primato ok eccomi qua allora sono tornato avete visto gli animali che sto allevando tra tante virgolette chiaramente non vi ho fatto vedere tutti gli animali che ho perché altrimenti il video diventerebbe troppo lungo ho anche ho anche vari tipi di anatra tra cui le mandaline vari tipi di galline polcini di india piccetti e chi più ne ha più ne metta io vi saluto grazie mille davide per la possibilità che mi hai dato e l'opportunità io vi saluto e vi ringrazio per la visione ciao allora questo era mattia ha fatto un video che ha superato qualsiasi aspettativa è un ragazzo come avete visto che ha una passione che descriverla a parole diventa anche difficile questa legge farebbe sì che questo ragazzo tutto quello di bello che fa nella sua vita con i suoi animaletti all'interno di casa sua ha aiutato come avete visto probabilmente dal padre io sto conoscendo in questi giorni mattia sarebbe praticamente impossibile ragion per cui mi viene da pensare che queste persone credano che il benessere animale che è importantissimo e che noi abbiamo sempre rispettato e onorato venga prima del benessere umano della felicità di un ragazzo che ha fatto degli animali uno scopo di vita io penso che il video sia il più bello spot o sponsor che possiamo fare al nostro hobby lo ringrazio nuovamente per aver partecipato al mio video spero di averlo presto ospite anche nel mio allevamento o comunque di conoscerlo presto di persona era giusto farvi vedere anche a voi questo video che spero che vi sia piaciuto per fortuna in questi giorni abbiamo avuto la buona notizia che questa legge probabilmente subirà delle notevoli modifiche che ci consentiranno di proseguire nel nostro hobby e nella nostra passione facendo sì che tutti quelli della Lab si mettano per una volta l'anima in pace perché abbiamo vinto noi ed era importante farvelo sapere ovviamente se ci saranno degli sviluppi faremo degli ulteriori video e nulla per il momento vi ringrazio grazie ancora a mattia e ci vediamo al prossimo video un abbraccio a tutti quanti ciao ragazzi ciao ciao ciao